Musica Nell'ambito delle attività della campagna elettorale, i maggiori rappresentanti del popolo della libertà, il leader storico Silvio Berlusconi ed il suo erede designato Angelino Alfano sono stati a Bari per chiedere il voto agli elettori moderati. Una grande e straordinaria partecipazione al di là di ogni nostra più rosea e aspettativa. Ci dispiace per i tanti che sono rimasti fuori, stiamo attrezzando uno schermo per far assistere a tutti all'intervento del presidente Berlusconi. Non sbagliavano quelli che dicevano che la Puglia è una delle regioni contendibili. Crediamo nel sorpasso, ci crediamo ancora di più dopo la giornata di oggi. Silvio! 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 Questa toglienza calorosa, ma non esagerate, perché alla mia età le emozioni sono pericolose. Sarebbe ancora che l'Europa a guida tedesca ci imponga i compiti a casa come fa con gli scolaletti? No! Sarebbero stati tutti addossati a me. E comunque presi il coraggio e misi, il punto del risultato, noi lavoreremo per ridurre il costo della macchina dello Stato. Qualt'è il costo della macchina dello Stato? E' un altro modo che ridurre le spese, ridurre i costi dello Stato. Bisogna lavorare in quella direzione e abbiamo ritenuto, riteniamo anche con l'esperienza che abbiamo, che se non si può arrivare al 30% si possa almeno arrivare ad una riduzione del 2% all'anno, aumentando questa riduzione ogni anno a seguire, finché in 5 anni si arrivi a una riduzione del 10% per non più di due legislature. Berlusconi ha tenuto il suo discorso al Teatro Team davanti ad una vasta platea di persone, mentre Alfano è intervenuto lo scorso martedì nella sede regionale del partito. Noi diremo agli imprenditori che non pagheranno tasse per 5 anni se assumeranno un giovane disoccupato. Su quello occupato lì non pagheranno le tasse per 5 anni. Si tratta di proposte molto concrete che noi abbiniamo anche ad una vera rivoluzione nel rapporto tra il cittadino e il fisco, cioè riformare i poteri di Equitalia, togliere il redditometro di Monti, questi indici totalmente irragionevoli, ed eliminare il limite dei contanti a 1000 euro. Ci stiamo impegnando ad eliminare l'IMU sulla prima casa e a rimborsarla. Il totale di questo costo è intorno a 4 miliardi. Loro vogliono mettere una patrimoniale da 40 miliardi che vale 10 volte l'IMU sulla prima casa. Sarebbe una botta al ceto medio, dalla quale il ceto medio non si riavrebbe più, e quindi siamo dell'idea che non è compatibile un'alleanza che propugna meno tasse come quella guidata dal Presidente Berlusconi con una coalizione come quella che sarebbe rappresentata da molti. Si arricchisce non soltanto dell'affetto, della simpatia, della gratitudine, ma si arricchisce della motivazione, della passione e dell'entusiasmo rinnovato con cui gli amici, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali unitamente a tutti i candidati affrontiamo questa campagna elettorale con determinazione, con convinzione, con recuperata fiducia sulla spinta dell'entusiasmo straordinario che è stato capace di trasmettere a tutti noi e all'intero Paese Silvio Berlusconi che qui a Bari, qualche giorno fa, è stato accolto da una platea infinita di consensi, di applausi, una platea enorme, 7.000 e più persone che sono venute a salutarlo, a ringraziarlo, a confermare fiducia al popolo delle libertà.